9.949 le chiamate giunte alla sala operativa della questura di Grosseto a snocciolare i dati del 2022 e spiegare l'azione della Polizia di Stato il questore di Grosseto Antonio Mannoni. Oltre 65.000 persone controllate di cui 7.200 extracomunitari, i veicoli 22.694 mentre i posti di controllo sono stati 4.597, 1.134 le persone denunciate, 58 gli arresti di cui 36 stranieri e 6.200 pattuglie. Aumentata la dotazione di personale alla questura di Grosseto. Abbiamo investito molto sul controllo del territorio, l'attività di prevenzione quindi con la presenza sul territorio in strada sia fondamentale e per cui c'è stato dato dal Dipartimento della Polizia di Sicurezza 25 persone che sono arrivate nel 2022 particolarmente giovani che abbiamo subito trasferito alle volanti perché crediamo che la prevenzione sia il modo migliore per dare sicurezza alla comunità di Grosseto, ai cittadini grossetani. Intensa l'attività di polizia amministrativa. Tutto il 2022 abbiamo fatto un ampio utilizzo di questo strumento, è uno strumento importante perché anche questo va nell'ottica della prevenzione. Quello che io ho potuto fare come questore è avvalermi sempre a vantaggio ovviamente della comunità di Grosseto dei strumenti di polizia amministrativa. Strumenti che servono sostanzialmente a limitare l'azione dannosa e pericolosa di soggetti che commettono dei reati sul territorio. Intenso il contrasto allo spaccio di droga che secondo il Sole 24 ore pone Grosseto ai primi posti in Italia. Grosseto è ancora, la possiamo definire, una provincia tranquilla. Sullo spaccio di stupefacente abbiamo fatto un'azione molto forte. È chiaro che più la nostra azione di contrasto alla droga, agli spacciatori è forte e più i numeri salgono. Grazie a tutti.